Questo è il primo punto. Il secondo è che quando appunto hai un presidente degli Stati Uniti che arriva da noi mentre il suo ex avvocato dice che è un razzista, un truffatore, un bandito, un bugiardo, manca solo che dicesse che fosse anche Juventino, mi sembra ovvio che il giovane Kim abbia cercato di, sì sono milanista scusate, abbia cercato di alzare il prezzo, cioè con un presidente degli Stati Uniti così debole